I saggi e gli articoli che compongono questa piccola antologia sono stati scritti da Guy de Boer tra il 1955 e il 1988. La scelta è stata curata da Gianfranco Marelli che ha redatto anche la postfazione, mentre io mi sono occupato della traduzione e delle note. Il criterio che ha guidato la scelta di questi scritti è stato quello di ritrovare e ripercorrere le tracce di una dichiarata sensibilità ambientalista di de Boer. Così, a più di 30 anni dall'elaborazione di questi testi, abbiamo la conferma di una delle sue più importanti intuizioni, ovvero la prefigurazione di una società in cui la lotta, peraltro condivisibile e necessaria contro l'inquinamento e la devastazione ambientale, avrebbe assunto un carattere statuale e regolamentare e buono solo a innescare un proliferare di specializzazioni, di dicasterie e di nuove burocrazie. E oggi sappiamo quanto queste sue intuizioni fossero fondate. In buona sostanza, de Boer, mentre da un lato elabora la celebre critica situazionista della Società dello Spettacolo, dall'altro traccia le linee di una critica altrettanto implacabile all'ecologismo mistificatorio, all'ambientalismo fasullo, che poi diventerà molto alla moda e si rivelerà un complice perfetto della green economy. In questi scritti vengono indagati, fra l'altro, gli spazi urbani come uno dei campi di applicazione della concezione dominante dell'organizzazione dell'ambiente e del territorio. De Boer individua quindi come centrale decisiva la critica rivoluzionaria dell'urbanistica e dell'architettura nei loro rapporti inestricabili col potere. L'urbanistica appare quindi nella sua funzione strategica di controllo della popolazione e più precisamente dei lavoratori e come tecnica di dominio, di gerarchizzazione e di esclusione. Ma de Boer ci dice anche che è possibile contrastare queste concezioni dello spazio che poi condizionano direttamente la nostra vita quotidiana. Si può intervenire per destrutturarle attraverso una serie di pratiche che in qualche modo ne capovolgano, ne invertano il senso. Ad esempio i situazionisti propongono una urbanistica alternativa, capace di permettere l'uso ludico e creativo degli spazi e un'urbanistica che sia da contrapporre a quella orientata esclusivamente verso l'ideale produttivistico. Quello che de Boer definisce come urbanismo unitario mette insieme una serie di pratiche che vanno dalla deriva alla decontestualizzazione, al detournement e che permettono di sfuggire a quella visione funzionalistica degli spazi, ma anche a quel razionalismo che loro avversavano ad esempio in Le Corbusier. Quindi a questo punto si delinea un'esperienza, l'esperienza psicografica, in grado di individuare percorsi passionali, emotivi, affettivi e in altri termini una vera e propria sperimentazione di un uso ludico del territorio, ma anche addirittura una creazione di vere e proprie nuove mappe urbane. Insomma una serie di possibilità inedite vengono ad aprirsi in questo modo. In questi scritti ritroviamo tutta la carica eversiva dei situazionisti, che si tratti di mandare in frantumi l'accademia artistica, il cinema di propaganda ufficiale, il consumismo, il militarismo, il falso ambientalismo. Ma vediamo anche delinearsi un'idea di felicità che sia l'antitesi di quella che viene offerta dalla miseria dei consumi indotti, da quella estigazione al consumo di merci di qualità discutibile, da quei bisogni che non sono mai stati desideri. Quindi una critica senza compromessi che ci restituisce tutta l'urgenza di pratiche di contrasto al dominio, alla gerarchia e al conformismo.